Dove nasce l'agricoltura? I luoghi in cui nasce per la prima volta l'agricoltura è in prossimità di grandi fiumi, in Mesopotamia, tra il Tigri e l'Eurate, in Egitto, percorso per molti chilometri dal fiume Nivo, in India, vicino al fiume Indo, in Cina, vicino al fiume Giallo, Questi sono i luoghi in cui per la prima volta nel mondo l'uomo inizia a coltivare, a modificare il suo ambiente. Il tutto avviene nella preistoria, nel Neolitico si parla di rivoluzione Neolitica. Ciao al prossimo video, vi aspetto!